PEGI 18 Ehi! Quella è attrezzatura delicata! Costruisco robot, Dev. So quello che faccio. Rispondi in fretta. Hai mai visto il video? Come sono? Sexy. Quanta gente hai detto che è venuta al tuo firmacopo? Ehi! C'era parecchia gente per una cittadina così piccola. La fama non mi interessa. Voglio mostrare alla gente che il mondo che immagina non è diverso da quello che conosce. Ovviamente i miei non approvavano, quindi ho dovuto cavarmela da solo. E così, con risorse limitate, mi sono costruito un arsenale improvvisato. Tutto da autodidatta, modestamente. Voglio mostrare a tutti ciò che ho visto. Vedere gli occhi della gente illuminarsi. Come quelli di un bambino. Ti rendi conto che è scoppiata un'apocalisse di vampiri? Beh, nessuno ne ha mai visto uno prima, no? A proposito, devo dare un'occhiata all'esemplare. Già, perché di certo non rischiamo di incontrarne altre migliaia. Ah! C'è uno del posto. È qua! Distrappo il cuore a morsi. Scordatelo! Facciamo un po' di luce sulla faccenda. Facciamo un po' di luce sulla faccenda. Facciamo un po' di luce suports. Facciamo un po' di luce sulla faccenda. Grazie a tutti.